Domani sarà una giornata migliore non solo per le previsioni meteo che danno appunto miglioramento per il tempo ma anche perché ci sarà un incontro pubblico alle 6 del pomeriggio in piazza 20 settembre con Roberto Fico il presidente della commissione vigilanza a RAI del Movimento 5 Stelle in questo caso che ci verrà un po' a presentare tutto quello che si sta facendo dal punto di vista chiaramente del Movimento 5 Stelle in Parlamento soprattutto chiaramente per la riforma RAI di cui tanto si parla in questi giorni accompagnato dal candidato presidente alle prossime regionali di maggio nelle Marche Gianni Maggi con i 7 candidati invece consiglieri appunto sempre regionali della nostra provincia tra cui la nostra Rossella Cotto che diciamo guiderà la serata e sarà una serata molto interessante perché almeno nella prima mezz'ora ci saranno i giornalisti che potranno fare delle domande tipo botte e risposta appunto con Roberto Fico e anche con Gianni Maggi poi ci saranno degli interventi diciamo aperti al pubblico e chiuderà di nuovo Roberto Fico con insomma tutto quello che ci vorrà raccontare sarà una serata tutto tondo dove le tematiche saranno tantissime senza filtri quindi insomma invitiamo appunto i fanesi a partecipare domani ripeto alle 6 del pomeriggio in piazza 20 settembre grazie a tutti grazie a tutti